come risolvere questo problema su Fortranet ovviamente ci sono due metodi per risolvere questo problema primo metodo è quello di andare un attimo vai a scrivere visualizza impostazioni di sistema avanzate eccolo qua quindi in questo caso andremo poi ad allocare così una memoria virtuale quindi prenderemo memoria della ram installata nel nostro pc come puoi vedere io ho 32 gigabyte di ram se vado su impostazioni vado su avanzate faccio dimensione totale e file faccio cambia quindi in questo caso noi adesso suggestisce automaticamente dimensione file togli questa spunta vai su dimensioni personalizzate metti come memoria iniziale 1024 che è un gigabyte di ram dimensione massima e quindi adesso devi fare 1024 per la tua ram quindi andiamo un attimo sulla nostra calcolatrice e facciamo direttamente 1024 per io ovviamente 32 gigabyte di ram ma metto 16 faccio ed eccolo qua che mi esce fuori questo qua tolgo così il punto e ho finito e faccio imposta dimensioni personalizzate e metto imposta e faccio ok una volta fatto riavvia il tuo sistema come secondo metodo andiamo un attimo su epic games vai nella libreria dove tieni fortnite tre puntini gestisci opzioni di avvio in descrizione ti ho lasciato il link che ti porterà sulla pagina di epic games support quindi in questo caso c'è questa pagina che dice se hai problemi anche con il directx dobbiamo avviarlo con questo comando ctrl v e chiudi qua una volta fatto non ti resta che avviare fortnite e vedere se si avvia se hai problemi commenta sotto al video cercherò di fare un'altra guida su come risolvere questo problema quindi a me non mi resta che avviare il gioco ed ecco che fortnite si sta avviando ed ecco che fortnite si è avviato senza nessun problema se avete altri problemi commentate sotto al video grazie a tutti per questa missione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao